ciao a tutti oggi faccio il video su degustabox che mi è arrivato l'altra settimana il sito è degustabox.com l'abbonamento costa 15,50 euro più spedizione e vi arrivo col corriere allora sposto il cartone plastica un attimo solo che ogni volta mettono 50.000 polini ecco qua allora questa è la box di novembre come sempre ci sono dieci prodotti questa box in realtà costa 30 euro c'è i prodotti ma loro lo fanno dare 15 euro allora partiamo ci sono due confezioni di questi biscotti agro dolce che non ho mai sentito la nominale questa marca si chiama gus di pasta sfoglia 200 grammi ce ne sono due eccole qua e queste costano 1,79 euro all'una poi ci sono due confezioni di testi snacks e bastoncini con semi di girasole non fritti e sono 62 grammi e ce ne sono due e fa 89 centesimi l'uno poi c'è una scatola di caffè della pellini top espresso questa costa 5,90 se non si poteva trovare i compatibili in espresso 3,60 euro compatibili dolce gusto 3,99 euro invece io nella box ho questa e già questa fa quasi 6 euro a me non piace il caffè poi c'è il prodotto del mese e l'estate al limone finalmente non male perché quello alla pesca non mi piace e questa è la bottiglia 1,79 euro ed è il prodotto del mese infatti dentro c'è pure il libricino dell'estate con tutta la spiegazione anche se può bere anche Natale il tè e basta poi c'è questa salsa pronta agromonte senza glutine 100 grammi e questo costa 1,90 euro e poi c'è questo olio extravergine il frutto il frutto no coppini alto le aria 100 millilitri e costa 5 euro già questo così piccolo poi c'è questa crema tiramisù non nanita bisogna solo aggiungere la panna fresca e le uova ah no solo aggiungere panna fresca sì e vengono fuori 12 porzioni e sono 150 grammi e questo costa 3,70 euro poi c'è rio mare delle sardine senza pelle senza risca sono 105 grammi e costa 2,49 euro poi c'è poi c'è questa panna crema da montare ora sì e di riso con già zuccherata sono 200 millilitri e costa 1,20 euro poi per finire queste due confezioni di loaker napoli tuner napoli tuner con crema nocciole e invece questo dark sono tutti e due 55 grammi e costano 1,01 euro ok poi già mi hanno messo le velocità allora c'è rio mare che c'è un buono sconto c'è una ricetta e poi c'è un buono sconto per la prossima volta e poi c'è la buicità dell'olio quello piccolino mi si può andare con c'è lo sconto di gustabox di 10 euro e basta allora per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto mettete un pollice da lì su e iscrivetevi al mio canale ciao